Abbiamo passato il primo scoglio dei playoff 2021 della MLB e dunque tempo del recap per la nuova MLB Review Parleremo di quello che è successo nel wildcard game delle due leghe e soprattutto nel primo turno di playoff che ha portato al tabellone che vediamo di fronte, ci saranno già a partire da questa notte italiana alle 2 per la precisione l'inizio delle championship series, partirà l'American League con la sfida tra Boston Red Sox e Houston Astros dall'altra parte Los Angeles Dodgers contro Atlanta Braves ma per capire come sono arrivate queste 4 squadre alla fase finale dei titoli di conference partiamo dall'inizio e dunque capiamo come sono arrivate queste due formazioni in uno dei momenti clou che va a precedere la World Series che appunto sarà a partire da fine ottobre è stata una prima serie di playoff veramente entusiasmante con alcuni pronostici che sinceramente mi hanno sorpreso vedi per esempio la vittoria netta di Boston contro Tampa Bay per 3-1 l'unico pronostico che ho azzeccato è stata la vittoria o quanto meglio la come dire competitività di San Francisco Giants e Los Angeles Dodgers in 5 partite ed effettivamente è stato così alla fine la spontanea i Dodgers che continuano la loro difesa del titolo Houston vince 3-1 contro i White Sox e nella serie più equilibrata di tutte sulla carta alla fine anche qui c'è un netto dominio Atlanta vince 3-1 ma partiamo ovviamente da quello che è successo nella partita della morte nel Wild Card Game perché come dicevo nel podcast della scorsa settimana effettivamente questo tabellone dei playoff MLB 2021 riservava delle 10 squadre veramente di alto livello e già dai Wild Card Game si evinceva veramente che tutti questi playoff sono stati assolutamente già da questo primo turno assolutamente da seguire e di livello veramente veramente alto con tante emozioni a partire da The Rivaly la partita del meraviglioso gioco del baseball ovvero Boston Red Sox e New York Yankees una partita giocata a Fenway Park perché comunque Boston aveva il fattore campo per via dei maggiori numeri di scontri diretti vinti e effettivamente si è andata veramente a consumare una grande partita e attenzione a Boston perché visto che appunto la rivalry edizione numero inserete voi il numero casuale è effettivamente andata nel Massachusetts anziché andare a New York potrebbe rendere mentalmente Red Sox una squadra molto temibile per questo proseguo dei playoff la partita contro gli Yankees appunto giocata a Fenway Park vede peraltro una netta vittoria dei Boston Red Sox per 6-2 che devono di fatto ringraziare uno straordinario Nathan Ovaldi che di fatto concede le briciole a un attacco degli Yankees che nei primi inning in realtà combinerà poco si sborcherà soltanto nella parte alta del sesto con un punto quando il vantaggio era di 3-0 per i Boston Red Sox che poi appunto capitalizzeranno nell'ultimo terzo di partita è effettivamente una grande sferzata di morale per questi Boston Red Sox che non avevano di certo un accoppiamento facile sia nella Wild Card Game sia nel primo tour ma ne parleremo ma questa vittoria è veramente frutto del monte di lancio e della grande gestione evidentemente del manager che sarà controverso quanto volete perché crediamo che chi gestisce i Boston Red Sox è Alex Cora squalificato insieme a AJ Hinch per lo scandalo dei scenari rubati ai tempi degli Houston Astros scusatemi ma comunque Cora dimostra sia in questa partita che di fatto è una gara 7 divorziere santicipata sia soprattutto, lo vedremo tra poco, contro i Tampa Bay Rays di essere veramente un manager capace e battere gli Yankees una paletta 2 or die è sicuramente una sferzata di morale incredibile per dei Boston Red Sox che appunto devono ringraziare Nathan Ovaldi che andiamo a vedere ha un tabellino di tutto rispetto 5,1 inning lanciati quindi di fatto a parte appunto quella parte di punto della parte alta del sesto non concederà praticamente nulla agli Yankees 4 valide concesse appunto il punto subito 8k per un lanciatore che comunque ha dato una prestazione molto molto interessante chi la stecca del tutto è il suo rivale dall'altra parte ovvero Garrett Cole l'asso sul monte degli Yankees che appunto ha firmato molto più volte un super mega contratto di 9 anni a 240 milioni di dollari regge solo due inning Garrett Cole e già qui evidentemente si vede la cartina di tornazione della squadra degli Yankees che si sono arrivati ai playoff lottandosela con gli stessi Red Sox ma anche con altre squadre arrivati un po' per il rotto della cuffia alla pari comunque con gli stessi Boston Red Sox ma evidentemente il fatto che Garrett Cole abbia veramente reso poco dà l'idea della squadra degli Yankees tre punti subiti in neanche due inning una IRA di 13,50 non rende giustizia comunque a Garrett Cole che appunto perde questa partita meritatamente nonostante appunto il numero delle valide tra le due squadre sia stato veramente veramente esiguo se questa partita comunque era oltremodo significativa per tutti i motivi che sappiamo quindi la grande rivalità e comunque quello che c'era in paglio perché appunto sbagli la partita secca sei fuori dai playoff e se vinci avanzi in un'altra serie è molto breve perché ricordiamo che le Division Series sono al meglio delle 5 stesso discorso si può fare anche per l'altra partita della wildcard che è stata Los Angeles Dodgers St. Louis Cardinals i Los Angeles Dodgers che sono di fatto stati costretti a passare dalla wildcard per aver perso la division ai favori diciamo dei San Francisco Giants e dovevano affrontare la squadra più in forma del medio di settembre ovvero St. Louis che aveva infilato una serie di vittorie consecutive incredibile e come dicevo sempre nel podcast della settimana scorsa attenzione ai Cardinals perché chi arriva mentalmente carico ai playoff di settembre molto spesso nella wildcard può tirar dei brutti scherzi ed essere una brutta bega per usare un termine abbastanza forte per tutto il resto dei playoff ed effettivamente la partita che è maturata al Dodger Stadium è stato sicuramente quello che ci aspettavamo ovvero tantissimo equilibrio e ci è voluta la giocata di Chris Taylor esterno dei Dodgers molto molto interessante un grande veterano ma comunque anche lui è abituato a questi playoff per deciderla un walk-off homer del numero 3 mette i due punti decisivi sul tabellone per una vittoria dei Dodgers che avevano di fronte poi un'altra serie diciamo discreta anche qui per usare un eufemismo appunto Chris Taylor la mette col fuoricampo decisivo e parte di Dodgers altuno successivo il lanciatore perdente è il povero TJ McFarland che comunque era un altro rilievo assolutamente di livello St. Louis costruisce l'unico punto della partita nel primo inning e poi di fatto sarà una partita di fatto dominata dai lanciatori perché anche in questo caso abbiamo un grandissimo confronto due grandissimi veterani Max Scherzer da una parte che ritroveremo peraltro in un'altra partita che ho appena finito di vedere tra l'altro ovvero gara 5 tra Los Angeles e San Francisco e dall'altra parte Adam Wainwright due superstar uno grande esperto 40 anni una bandiera dei Cardinals l'altro probabilmente uno che dovrebbe vincere tutti i titoli possibili immaginabili per lo status di superstar che ha e anche per il rendimento portato anche lui iper costante ad alto livello ovvero Max Scherzer che in realtà dura soltanto 3 virgolette 4 inning e un terzo concedendo soltanto appunto il punto del primo inning ai Cardinals anche Wainwright farà una prestazione suntuosa ma alla fine appunto la qualità dei Jodlers che comunque hanno un roster molto più profondo rispetto ai Cardinals ha prevalso e appunto la conclude Chris Taylor con Iwako Fomer del 3-1 finale tutto questo per andare a comporre il tabellone che si è concluso nella giornata di stanotte con la gara 5 tra Dodgers e Giants le altre serie come diciamo prima invece erano Tampa Bay contro Boston e Chicago White Sox Houston Astros per l'American League la serie Giants detta già più volte e poi appunto Atlanta Milwaukee e analizziamo un po' queste serie perché sono tutte delle serie interessanti che avevano assolutamente del potenziale e partiamo dalla parte bassa però dal tabellone dell'American League Division Series io speravo sinceramente di vedere i White Sox concretizzare ancora di più il talento che hanno già mostrato soprattutto negli ultimi due anni per andare avanti nei playoff e invece hanno dovuto soccombere a Houston che per la quinta volta consecutiva si qualifica al Championship Series ok che Houston sono definiti i bidonari i cheater ma sono una squadra forte e provate a spostarli da questi playoff perché da qualche anno a questa parte Houston è stata costruita per essere abituata a questi contesti e quando arriva ottobre la squadra texana alza sempre i livelli lo si è visto nel pivotal game di questo match che non è gara 3 ma in questo caso si può definire in gara 2 ovviamente non parlerò di tutte le partite perché altrimenti il podcastone viene lungo esattamente come una quaresima cerchiamo però di riassumere i momenti cardine di ogni serie anche per vedere le partite che ho visto e ho commentato anche ovviamente in diretta per quanto riguarda invece appunto dicevamo il pivotal game della serie Houston Chicago è sicuramente gara 2 Houston veniva già dalla prima vittoria di gara 1 dove i White Sox ci hanno capito veramente pochissimo avevano praticamente abdicato e regalato quasi la vittoria ai Houston Astros per quanto non si possa regalare niente nel meraviglioso gioco del baseball ma diciamo che i White Sox non erano la versione che nei primi 5 inning si era visto almeno in gara 2 Houston li ha praticamente silenziati e ci voleva il riscatto per i White Sox in gara 2 riscatto che era arrivato in parte ma Houston come dicevo prima è una squadra che è fatta per ottobre e quindi in queste situazioni viene sempre fuori e ha risposto colpo su colpo ai White Sox che comunque avevano anche rimontato lo svantaggio di 2 a 1 maturato nei primi 2 inning si va al giro di bordo la partita con il punteggio di 4 a 2 ma poi alla fine Houston viene fuori e la chiude di fatto nel settimo inning con il fuoricampo da due punti di Kyle Tucker e quella è veramente la cartina di tornasole della serie che prenderà la via di Houston certo Chicago vincerà a gara 3 ma questa dimostrazione di forza degli Astros contro una squadra comunque di talento come i White Sox dà veramente l'idea di come ai White Sox manchi probabilmente quel qui di in più per arrivare al livello di Houston e come Houston appunto abbia rispettato di fatto le attese dei pronosti perché al netto di tutte le aggravanti del caso come detto prima Houston è una squadra che va battuta e non sarà di certo facile il fuoricampo appunto decisivo è quello di Kyle Tucker e poi diciamo si compensa una partita che per il resto non avrà molto altro da dire nonostante le valide siano molto equilibrate addirittura i White Sox pur costruendo una valide in più 11 perdono di 5 punti 10 perché appunto gli Houston sono stati bravissimi a concretizzare evidentemente le occasioni create con anche le valide giuste e potenti al momento giusto per una serie che appunto poi non ha avuto tanta storia io mi aspettavo veramente tanto più equilibrio nella mia ipotesi personale avrei detto 5 partite con White Sox vincenti e invece abbiamo gli Houston vincenti qualificati alle Championship Series incredibilmente si prospetta lo stesso punteggio nella parte alta del tabellone dell'American League Division Series ma con appunto un upset incredibile perché Boston batte i favoritissimi Tampa Bay Rays 3 a 1 in una serie veramente molto interessante una serie dove appunto anche parlando così con amici che giocano con me in squadra tifosi dei Red Sox dicevano evidentemente ma i Red Sox hanno già fatto tantissimo a superare i Wild Card Game evidentemente Tampa è favorita ci può stare che Boston vinca una partita e Tampa vada effettivamente a vincere la serie 3 a 1 e la gara 1 di questa serie tra Boston e Tampa effettivamente dava questa impressione qui Tampa Bay nella prima partita veramente dimostra di essere la squadra dello scorso anno quindi anche questa una macchina più giovane senza però superstar costruita veramente per far bene a Rosarena è ritornata la Rosarena dello scorso anno che a ottobre ha fatto veramente sfracelli e gara 1 sembrava non dare speranza a Boston che invece va a pareggiare la serie e si arriva al Pivotal Game e qui in questo caso è veramente gara 3 una gara 3 giocata a Fenway Park in un tripudio peraltro dei Boston Red Sox che la vincono soffrendo veramente le pene dell'inferno 6 a 4 al trentesimo inning il quarto supplementare diciamo così con evidentemente un walk-off run di Christian Vasquez che è entrato dalla panchina in occasione di Kevin Plavetsky che è l'altro catcher e regala veramente una vittoria che sarà fondamentale per i prosegui della serie in una partita che peraltro ha visto Tampa partire benissimo in vantaggio poi rimontati l'equilibrio poi viene spezzato appunto fino al quinto inning dove appunto i Red Sox sono in vantaggio 4 a 2 alla fine però Tampa la recupera in qualche maniera fino alla parte alta dell'ottavo inning con il 4 pari e poi il walk-off cover di Vasquez chiude i conti di fatto indirizzando già la serie verso le Championship Series perché poi Boston vincerà anche gara 3 scusatemi ovviamente la terza partita che è gara 4 e si qualifica alle Championship Series e qui viene fuori quello che diciamo dicevo anche per i Cardinals che una squadra che arriva dal Wild Card Game che vince adesso contro i favoriti comunque in generale dell'American League perché parliamoci chiaro Tampa Bay aveva il miglior record della regular season 100 vittorie miglior record della storia della franchise della Florida e il pronostico era effettivamente contro la formazione di Alex Cora che soprattutto in questa partita dimostra di essere un manager veramente capace gestendo gli uomini giusti al momento giusto magari coprendo dei limiti che tutti gli esperti danno dei Boston Red Sox eppure questa squadra che di certo non partiva con i favori del pronostico è in finale di conference per usare un termine che si usa in altri sport americani e si la dovrà giocare contro gli Houston Astros e gli Houston Astros dovranno stare attentissimi perché dal mio punto di vista Boston può essere la squadra del destino nel senso una squadra indirizzata mentalmente nella via giusta che può dar veramente fastidio a tutti e evidentemente puntare chissà a arrivare quantomeno alla World Series dopo che hai battuto gli Yankees i grandi rivali hai fatto l'upset contro Tampa Bay che comunque era una squadra che dovevi batterla ed era tutto forche facile adesso hai Houston altra squadra ancora di più abituata a ottobre più di Tampa e se batti anche loro evidentemente ti candidi alle finali diciamo delle World Series con credenziali certo evidentemente adesso si ragiona sulle sette partite e non più su cinque quindi entrano in gioco tanti altri fattori ma Boston Houston è una serie assolutamente interessante che andrà seguita mi auguro possa vincere Boston onestamente perché la storia della squadra del destino mi è sempre piaciuta vedi per esempio i Washington Nationals del 2019 che anche qui dalla wildcard vinsero il titolo del mondo se possiamo chiamarlo così nel 2019 appunto contro gli stessi Houston Astros attenzione perché già da stanotte ora italiana alle due si giocherà gara 1 appunto tra queste due formazioni tra i cheater i bidonari chiamateli come volete Houston Astros e i Boston Red Sox che comunque hanno avuto un tabellone tutto forche facile e dovranno evidentemente superarsi ancora per regalare veramente tante soddisfazioni ai tifosi e agli appassionati di baseball in generale è una serie non così scontata quindi attenzione a chi dice che Houston può essere favorita per il pronostico finale Boston può dare veramente tanto fastidio soprattutto nelle partite casalinghe ok che Boston non ha il fattore campo ma attenzione perché questa serie sarà oltremodo divertente così come sarà oltremodo divertente quella che è la rivincita delle championship series dello scorso anno dall'altra parte ovvero Los Angeles a 30 Braves mentre ricordiamo che Boston e Houston si sfidano di nuovo dopo il 2018 dove vinse Boston che poi andò alla conquista del titolo l'ultimo appunto della franchigia del Massachusetts dall'altra parte dicevamo ci sarà Los Angeles Dodgers contro Atlanta Braves partiamo anche qui dalla parte bassa del tabellone con un'Atlanta che era la squadra probabilmente meno indicata come record in generale tra le qualificate perché appunto è vincituti di division della National League East division tutto for che competitiva basti pensare che con 88 vittorie gli Atlanta Braves sono arrivati i primi mentre in altre division vedi per esempio la stessa di Giants e Dodgers con 88 vittorie e ricuarto se andava veramente bene alla fine la vince l'Atlanta 3 a 1 in una serie molto sgonfia mi verrebbe da dire perché in tutte e tre le partite prima di gara 4 che è quella di cui apprezziamo un po' più affrontitamente i punteggi erano veramente veramente bassi addirittura in due partite i Milwaukee Brewers non hanno segnato manco un punto sul tabellone questo per via di una grandiosa sterilità offensiva che in parte si ripeterà in gara 4 che sarà quella che di fatto qualifica gli Atlanta Braves ancora una volta alle Championship Series qui però viene fuori una partita come doveva essere probabilmente fin dall'inizio tutta la serie quindi tantissimo equilibrio tra due squadre che non sono propriamente dominanti che avevano come potenziale offensivo qualcosa di interessante ma che non hanno concretizzato alla fine tutto quello che non hanno raccolto nelle prime 4 gare 3 anzi meglio si concretizza nella gara 4 che finisce 5 a 4 per Atlanta che di fatto la decide evidentemente all'ottavo inning dopo veramente tantissimo tantissimo equilibrio in un match che vede la vittoria di Tyler Mazzek e la sconfitta di Josh Hader la garanzia dei Milwaukee Brewers nei playoff nelle gare decisiva spesso vediamo dei closer che anticipano la loro salita sul monte Josh Hader è salito all'ottavo inning viene però colpito al cuore il numero 71 dei Brewers da un fuoricampo decisivo da parte di Freddie Freeman l'uomo franchigia per Atlanta il canadese che trascina ancora una volta la squadra della Georgia nella championship series mette il punto decisivo e poi la chiude Will Smith closer di Atlanta che quest'anno sta veramente facendo una stagione veramente interessante la vince Tyler Mazzek che è il rilievo salito apposta nell'ottavo inning per limitare un attacco dei Brewers che per la verità dopo il quinto inning in realtà non ha più concretizzato appunto come dicevamo i Brewers hanno avuto una striscia molto poco invidiabile di nessuna valida in più di 20 occasioni con corridori in posizione punto e questa statistica è appunto il turning point della serie una formazione quella del Wisconsin che aveva una marea di potenziale soprattutto offensivo che non la concretizza certo hanno anche un parco partenti che può compensare ma non può reggere tre partite dove appunto i Brewers hanno segnato veramente pochissimi punti di cui due terminate a zero con appunto vittorie poi dei Braves basti pensare che nelle prime partite nessuna squadra ha scelto più di tre punti la gara a tre era finita per esempio a tre a zero col fuoricampo di Jack Peterson e anche Atlanta in qualche maniera riesce ad arrivare alle finali di conference non è però la stessa Atlanta dell'anno scorso e ne parleremo perché è vero è la rivincita contro i Los Angeles Dodgers ricordiamo però che l'anno scorso Atlanta Los Angeles Dodgers finì in sette partite ma erano due squadre totalmente diverse i Dodgers probabilmente sicuramente ma per i motivi diversi perché i Dodgers sappiamo che hanno preso una marea di gente in più soprattutto di nomea e di soprattutto montestipendi e comunque nonostante questo sono dovuti passare dalla wildcard perché hanno trovato di fronte i San Francisco Giants la squadra probabilmente più ostica da affrontare in qualunque momento non ho mai visto una division finire con la prima con 107 vittorie e la seconda con 106 per il via del regolamento i Dodgers hanno dovuto affrontare i Giants al primo turno in quella che probabilmente era la finale di conference della National League anticipata e non poteva finire in modo diverso perché l'abbiamo detto più volte Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants si sono qualificati di fatto a gara 5 e gara 5 non poteva finire che in questo modo in una partita equilibratissima fino al nono inning dove arriva il punto decisivo da parte dei Los Angeles Dodgers che si qualificano soffrendo le pene dell'inferno contro l'unica squadra una delle poche comunque che in una serie li poteva mettere in difficoltà è incredibile come appunto prima di gara 5 delle division series entrambe le squadre arrivassero con 109 vittorie in complessivo contando anche quelle dei playoff la chiave della serie era molto semplice se i Dodgers riuscivano a fare tantissimi punti allora la via della vittoria era indirizzata verso Los Angeles ed è stato veramente così effettivamente nelle partite vinte da Los Angeles se invece il motilancio dei Giants che è una delle armi forti di quest'anno della formazione di Gabe Kapler riusciva a limitare l'attacco straordinario e talentuoso di Los Angeles Dodgers allora c'erano chance e quello che è successo in gara 1 e in gara 3 in gara 1 c'era una prestazione suntuosa di Logan Webb partente anche in gara 5 e infatti Logan Webb ha fatto la prestazione da Logan Webb limitando a un solo punto l'attacco dei Dodgers dall'altra parte invece Dave Roberts ha dovuto cambiare un po' il metodo di gioco ha messo il partente migliore ovvero Luis Urias statisticamente per quanto riguarda ovviamente questa serie ha partita in corso e però anche Urias ha retto molto meno si è dovuto ricorrere a un espediente interessante che si vede anche in questo caso durante i playoff partenti riciclati come rilievi ma che partente perché la salvezza la porta a casa a Max Scherzer che entra apposta per silenziare l'attacco dei Giants che a momenti potevano anche arrivare ad avere una chance di vittoria perché una battuta in foul di Lamonte Wade va tanto così veramente dal fuoricampo è stata una partita molto tattica giocata benissimo dai due manager Dave Roberts per i Dodgers e Gabe Kapler dall'altra un po' come la World Series dei Chicago Cubs contro i Cleveland Indians meritavano di passare tutti e due ma ovviamente non si può io personalmente avrei preferito che passasse Frisco un po' perché mi stanno un po' più simpatici dei Dodgers un po' perché hanno i colori della mia squadra di slopice quindi rispetto ai massimi livelli e poi dispiace ovviamente vedere una delle due squadre chiunque essa sia in questo caso uscire così dai playoff perché ricordiamo che i Dodgers hanno vinto 106 partite vero continuano la difesa del titolo ma i Giants degli ultra trentenni che hanno fatto praticamente il maggior numero di fuoricampo della Lega avevano messo in difficoltà i Dodgers meritavano veramente delle chance in più non è stato così è stata una partita bellissima che ho venuto a vedere veramente poco fa è veramente un peccato salutare i Giants perché meritavano evidentemente meritano comunque anche i Dodgers di continuare la difesa del titolo e adesso parliamo di Championship Series in una serie almeno delle sette partite che i Dodgers non giocheranno nel fattore campo a favore perché per il regolamento il diciamo fattore campo va alla vincitrice della division nonostante Atlanta abbia vinto 88 partite a memoria e i Los Angeles Dodgers abbia vinto 106 Atlanta è vincitrice di division seppur meno competitiva i Dodgers no e dunque si giocheranno 4 partite al True Sport di Atlanta e 3 evidentemente al Dodger Stadium va detto che in questa configurazione a mio modo di vedere qui andiamo un attimino nella fase pronostici i Los Angeles Dodgers potrebbero avere comunque la chance di vincere contro gli Atlanta Braves che non sono gli stessi dell'anno scorso così come i Dodgers perché i Dodgers è vero hanno comprato tanto di più ma hanno degli infortuni o delle assenze molto importanti abbiamo parlato di Clayton Kershaw non c'è nemmeno Max Muncy prima base assolutamente di rilievo non sappiamo ovviamente cosa succederà in questa serie sappiamo sicuramente che mancherà Trevor Bauer per i noti motivi extra campo e anche Atlanta per anche qui in questo caso sia infortuni che motivi extra campo non è la stessa dell'anno scorso ed è probabilmente un po' più debole rispetto alla stessa Atlanta che mese in difficoltà gli Los Angeles Dodgers fino alla settima partita dello scorso anno nel campo neutro del Globe Live Field Atlanta sappiamo che non ha Ronald Acuna Jr che è veramente uno dei giocatori più importanti di questa franchigia anche uno dei più devastanti in generale a livello di Lega ovviamente per Cugna ricordiamo saltato il crociato e quindi out for the season non c'è nemmeno Marcel Osuna ma qui non è un problema di infortunio ma come Bauer è un problema extra campo Bauer è accusato di violenze sessuali e Bauer è accusato di violenza domestica con addirittura attentato omicidio pare quindi si va veramente in cose molto molto serie eppure nonostante queste assenze fondamentali perché sono due giocatori di livello Atlanta è riuscita ad amalgamarsi e arrivare in qualche modo alle Championship Series secondo me Atlanta è inferiore a questa Los Angeles e Los Angeles può arrivare ancora una volta in finale alle World Series e sarebbe la terza World Series in quattro anni perché Los Angeles ci è arrivata nel 2018 perdendo con Boston ci è arrivata nel 2017 perdendo con Houston e ci è arrivata nel 2020 vincendo contro Tampa Bay e potrebbe appunto essere la quarta appunto in tempi recenti dall'altra parte abbiamo Boston Houston che è la rivincita del 2018 anche qui Championship Series in quel caso vinse Boston spero in realtà che vinca la formazione del Massachusetts per i motivi che ho detto prima se dovesse però essere una vittoria penso si arrivi alla settima perché comunque sono due squadre che hanno tanti fattori della loro parte Houston è più squadra da playoff è più talentuosa probabilmente dei Boston Red Sox che però hanno un manager capace che mette la mano sui problemi della squadra e riesce probabilmente a risolverli e Boston arriva con una carica morale incredibile forse ancora più alta di Houston e nei playoff ripeto ancora una volta la carica morale fa veramente tanto anche quando saranno finite le Championship Series ci sarà il recappone dove presenteremo anche le World Series e vedremo chi saranno le partecipanti io dico che la mia finale possibile è Boston Red Sox per l'American League contro Los Angeles Dodgers per la National League fatemi sapere ovviamente i vostri pronostici e come sono andate le vostre squadre che cosa migliorereste in generale anche se la vostra squadra è stata eliminata e ovviamente azzardatevi anche voi a dire i vostri pronostici così come l'ho fatto io e dunque quando saranno finite le Championship Series andremo a fare il recappone prima del World Series in questo appuntamento oramai settimanale per ottobre ma lo sapete sul canale sportivo c'è spazio per il baseball soprattutto a ottobre il secondo podcast su quattro previsti finisce qui e saluto da parte di Meteo Torgaard ci vediamo quindi a un prossimo video